Sicuramente ci sono dei momenti nella vita, soprattutto dei momenti della formazione, del periodo scolastico, dove uno cerca dei riferimenti, cerca dei linguaggi che comunque lo influenzano nella costruzione di una sua espressione. Mi ricordo che sicuramente a metà degli anni 60, quando ho iniziato l'istituto d'arte, l'influenza della scuola americana da IMS a Berthoghia è stata una grande influenza sul processo produttivo, sul capire come il prodotto veniva pensato e costruito. Poi negli anni ci sono state altre influenze magari di altri designer italiani da Castiglione a Magistretti e questo funziona fino a una certa età, credo che fino ai 40 anni si hanno queste sorte di influenze. Poi inizia il tuo percorso, poi inizia il tuo modo di essere per cui non sei più influenzato, però c'è sempre la, come dire, a volte sei, quando magari vedi una vecchia immagine magari di un prodotto parte degli anni 50, che magari non avevi notato e magari in anni precedenti e ti rendi conto di quanta genialità determinati personaggi sono stati dotati, per cui di fatto non si smette mai di guardare e di, non dico di essere influenzati, ma non si smette mai di studiare, questo credo che sia una delle, come dire, fa parte proprio della nostra, del nostro modo di essere. Un architetto, un designer non smette mai di essere curioso, pertanto non smette mai di guardare e di studiare. C'è una sorta di sottovalutazione di questo termine, noi, molte persone pensano che l'interior design sia la scelta di una tenda anziché di un tappeto. Di fatto l'interior design, ad esempio sui nostri grandi progetti di architettura, è una parte integrante del progetto, cioè molte volte è il progetto dell'interno che influenza il progetto del volume stesso dell'edificio, per cui io tendo a non separare la cultura architettonica dalla cultura dell'interno, è un qualcosa che negli ultimi anni abbiamo sentito dire tante volte, io credo che sia un approccio culturalmente sbagliato pensare che esistono due mondi, un mondo dell'interno e un mondo degli esterni. E parallelamente il design per certi aspetti di certi prodotti nasce da certi progetti interni, per cui nel momento in cui faccio un albergo, determinate esigenze di questo albergo diventano poi l'idea per disegnare dei nuovi prodotti, per cui c'è un'interconnessione molto forte fra l'oggetto e l'interno dell'architettura, cioè per me è, credo come è stato in tutta la tradizione fino al dopoguerra, c'è questa grande integrazione nel mondo del progetto che va dal prodotto all'architettura. Io non so quanto noi siamo influenzati o quanto noi influenziamo, cioè nel senso le persone che fanno il nostro lavoro sono delle persone che sono particolarmente sensibili a quello che avviene, dal punto di vista, ad esempio, del lifestyle o dal punto di vista della percezione di cosa sta cambiando. Per quello che dico è che molte volte arriviamo un attimo prima di altri nel capire cosa succede. Faccio un esempio, a metà degli anni Ottanta quando ho disegnato il City, dove cambiavo la tipologia del divano, facevo questi divani profondi dove uno pensava al divano come un luogo dove per mangiare, leggere, sdraiarsi, dormire, guardare la televisione, per cui uscivo dalla dimensione tradizionale del divano che era un divano che era un divano e fatto da tre volte una poltrona. Cioè quella è proprio una lettura di come il nostro vivere quotidiano si sta evolvendo. Ci sono dei momenti dove ad esempio percepisci una maggiore attenzione delle persone a determinati ambienti. Io credo che negli ultimi dieci anni l'ambiente cucina e l'ambiente bagno è forse quello che ha avuto più evoluzione dal punto di vista tipologico, ma dal punto di vista, come dire, del capire che il bagno non è più solamente un fatto igienico, ma è un'altra cosa, è capire che la cucina è un luogo dove si ritrova, dove la maggior parte delle persone si trovano in cucina e hanno questa ritualità del cucinare, del mangiare, dello stare insieme che fa una famiglia, che fa anche un gruppo di amici, per cui in questi anni ad esempio c'è stata un grande attenzione all'ambiente cucina che non è più un luogo, come si pensava magari nella fine degli anni Sessanta, la cucina doveva essere un luogo di preparazione del cibo sterile il più assettico possibile, invece c'è una grande, la visione degli anni Sessanta sulla cucina è completamente sbagliata, perché invece abbiamo adesso le cucine molto grandi dove si mangia in cucina, dove tutto è più a vista, dove è più importante la ritualità che non l'idea tecnica o assettica di una cucina immaginata alla fine degli anni Sessanta. Ma io credo proprio la cucina, la cucina perché ad esempio è il luogo dove io ho incontrato i miei figli in questi anni, dove ho incontrato mia moglie, cioè adesso i miei figli, mio figlio è già in America, mio figlio anche lui andrà ad agosto, parte anche lui per l'università americana, però voglio dire in questi 20 anni, ho 23 anni, i due momenti della giornata, il breakfast alla mattina, la cena alla sera, è stato un momento di condivisione della famiglia. Poi come moglie è diversa perché abbiamo anche altri momenti dove abbiamo altri interessi rispetto ai ragazzi, però vediamo ad esempio che ormai i ragazzi non guardano più la televisione, cosa che ognuno si guarda sul proprio computer, magari altri film o altre cose, perché se negli anni 90 uno poteva pensare che la televisione poteva essere il luogo dove condividere una parte del proprio tempo della giornata, in questo momento invece è rimasto come dire la ritualità, del preparare e del mangiare insieme. Devo dire che questa domanda per me è molto semplice perché nell'ultimo progetto degli interni dell'aeroporto di Doha abbiamo degli oggetti di straordinaria qualità artigianale, cioè sono dei counter di 15 metri di bronzo fatti in un pezzo unico, che sono solo pensabili attraverso una straordinaria capacità artigianale che per fortuna in Italia li abbiamo ancora, dove il design contemporaneo, estremamente contemporaneo di quegli oggetti può essere realizzato solo attraverso questa grande capacità artigianale. La digitalizzazione non è solo funzionale, è essere presenti o meno sul mercato, è come dire, c'è il nostro studio che è uno dei pochi studi in Italia che lavora con questo programma di lavoro che si chiama BIM, che è una forma di digitazione ancora più complessa perché non è un problema di disegno ma è un problema di concetto di come si pensano le cose attraverso dei componenti e non più attraverso un disegno, ci mette in condizione di essere estremamente performanti dal punto di vista della competizione internazionale, cioè non è più possibile pensare di essere artigiani in modo manuale, questo non ce lo può più permettere a nessuno.